Sto ricevendo tantissime vostre segnalazioni attraverso foto, attraverso video attinenti appunto alle situazioni di degrado, di invivibilità urbana. Mi fa molto piacere perché credo molto nel rapporto diretto con il cittadino per far sì che questi scempi vengano resi pubblici mediaticamente e poi possa io, venendone a conoscenza, portare quelle problematiche presso gli assessorati, presso gli uffici tecnici. Quindi il mio numero è sempre quello, 339 244 240, potete mandare tutto qui o magari telefonarmi. È bello sentirci, prenderci un caffè insieme. Oggi voglio appunto rendere pubblica una denuncia che un cittadino di San Vito, che abita a San Vito, via Leionio, mi ha appunto fatto, attraverso questo video lo state vedendo, e tutta la pista ciclabile appunto che sta su via Leionio, una situazione di invivibilità vergognosa. Vedete le canne che, tutta questa vegetazione che va a, si riversa proprio, si catapulta sulla pista ciclabile e diventa impossibile persino camminare. Qui vedete, oltre le condizioni penose della pista ciclabile che tutti conosciamo, buche, punti rotti e quant'altro, ma qui si tratta proprio del minimo della vivibilità urbana che non c'è. Cioè l'amministrazione comunale non provvede neppure a tagliare queste canne, questa vegetazione spontanea che, ripeto, ostruisce proprio il camminare. Immaginate una bici, no? Allora, ecco, come fa in queste condizioni? Va ad impattarsi, va a scontrarsi, no? Con questi arboscelli. Ecco le favole dell'amministrazione Melucci, le favole, le cazzate che racconta Rinaldo Melucci, che racconta Mattia Giorno, che racconta Fabrizio Mazzulli, quando parlano appunto di alternativa, no? all'auto una diversa modalità di spostamenti, no? Di mezzi che dovrebbe usare il cittadino e quindi anche ben vengano le biciclette. Ma scusate, come potete chiedere di usare le biciclette se poi rendete la pista ciclabile impercorribile? La rendete impraticabile? Vi rendete conto della vostra incapacità, delle favole? Si parla di stronzate, perché di questo si parla, perché la mobilità sostenibile va bene laddove ci sono le condizioni per rendere concreta la mobilità sostenibile. Si parla di uso delle biciclette, benvengano laddove ci sono le condizioni per poter camminare in bicicletta. Ma cosa dice una persona? Cammina in bicicletta per trovarti una canna in un occhio, per trovarti un arboscello in un occhio. Questa è la realtà. A me piace essere un consigliere pratico, un consigliere che dice le cose come stanno, anche con qualche parolaccia, per far capire meglio. Allora, Mattia Giorno, il sindaco Melucci, Manzuli, andassero loro in bicicletta lì. Credetemi, sono stanco delle favole. La realtà è questa. I fatti sbugiardano l'amministrazione comunale. Non siete capaci neanche di assicurare l'ordinarissima manutenzione, gli interventi che fanno parte di una manutenzione ordinaria che in altre città di queste cose si occupa l'ultimo consigliere circoscrizionale. Per favore, per favore. Bene, questo è il video su Viale Ionio, relativo alla pista ciclabile. Nei prossimi giorni ne pubblicherò altri, proprio perché voglio dare voce al cittadino, voglio dare voce a chi non ha voce. Io lo faccio ora. Quando mancano ancora quasi quattro anni al rinnovo del mandato elettorale, altri politici, quasi tutti, l'unica eccezione siamo io e Massimo Battista, diciamocelo apertamente, altri politici si risvegliano e sono vicini al cittadino un mese, due mesi prima rispetto al voto. Noi siamo di un'altra pasta. Noi siamo di un'altra